buongiorno a tutti oggi commentiamo la partita che ho giocato o ieri contro il forte giocatore svedese joan norberg giocatore classificato m2 per il primo turno del terzo torneo win and skill ho iniziato bene ho una buona struttura lui sta pensando come giocare il 3 1 ecco vedete in alto a destra le analisi di xg sincronizzate con la posizione ottimo tiro doppio 2 quindi qui sicuramente devo fare casa 4 la scelta è tra switchare dal 5 al 3 che sospettavo fosse migliore ma ho preferito tenere il prime da 4 prime compatto 4 3 per lui è un pessimo tiro quindi già mentre pensava alla mossa sapevo che avrei cubato su qualunque sua mossa senza alcuna esitazione e non ero per niente sicuro se fosse un take o un pass quindi vedete che senza pensarci ho cubato e vedete che xg considera la posizione un netto pass invece lui ci ha pensato parecchio dopo di che parecchio non più di tanto e ha accettato devo dire che ero abbastanza contento del fatto che avesse accettato sono riuscito a creare un bel prime da 5 lui continua a danzare adesso ottimo doppio 5 per cui porto avanti le pedine cerco di colpire se possibile un'altra pedina ancora ecco qua non sapevo se giocare 13 7 che era la mossa che mi piaceva di più ma mi esponeva a qualche tiro sfortunato e ho preferito giocare più prudente commettendo un errore per quanto abbastanza lieve 32 millesimi però un errore quindi ho comunque slottato il mio bar point ma senza massimizzare le possibilità di colpire e coprire lui è rientrato ma oltre ad avere una struttura nettamente inferiore è molto molto rigido e quindi probabilmente dovrà lasciare degli altri blot io intanto sono riuscito a chiudere il prime da 6 lui si scopre ancora doppio 6 devo venire avanti avrei preferito massimizzare le possibilità di colpire un'altra pedina però non si può avere tutto 6 5 oltretutto queste mosse forzate non mi aiutano per il pr perché vi ricordo che il torneo winning skill dà un punto per la vittoria e un punto per il giocatore col miglior pr in realtà la formula è un po' diversa un punto intero se la differenza è di almeno uno altrimenti è proporzionale alla differenza di pr qui non mi piaceva portare la pedina dal 3 al 2 ho pensato anche alla possibilità di giocare 7-6 considerando che lui ha 3 blot in casa però non non valeva la pena di rischiare anche perché in ogni caso non ho tante possibilità di gammon e le possibilità di vittoria comunque sono elevatissime per cui il rischio non era assolutamente il caso 4-2 chiudo la quinta casa ma lui rientra subito per cui a questo punto è abbastanza scontatta la vittoria ma senza gammon quindi solo due punti ecco vedete che il mio viso che vedete è ripreso durante il gioco quindi non meravigliatevi se mi sentite parlare ma vedete la bocca chiusa quindi le riprese sono durante durante la partita invece le analisi di kg sono state ovviamente inserite dopo assieme al mio commento quindi sono buona partenza 2 a 0 non ho consumato tantissimo tempo che è sempre un problema per me in queste in queste partite ecco osservo adesso che ci sono 10 secondi di delay io ero convinto che fossero 8 non so se in passato si giocava con 8 ma adesso vedo che sono 10 devo controllare è interessante ero quasi sicuro che fossero 8 siccome io penso parecchio la differenza è rilevante per me ecco qui ci siamo distratti un attimo entrambi i giocatori hanno un ancora sul golden point io sono in vantaggio in corsa di 31 la mia struttura è migliore però mi troverò probabilmente abbastanza presto col problema di abbandonare l'ancora in sicurezza adesso qui ho pensato se potesse essere il caso di scappare ma non lo era per cui adesso mi trovo con due tronconi con l'ancora sul golden point completamente isolata dal resto della struttura ecco 3-1 ho giocato qua la mossa che spesso gioca xg cioè ho spalmato le mie pedine sulla casa interna ma in realtà era preferibile giocare la più classica 8-7-6-3 mi piaceva comunque l'idea di occupare di preparare l'occupazione di tutte le case interne ecco anche qui 6-1 ho sbagliato in realtà non ne sono proprio accorto sarebbe stato preferibile 7-1 e 3-2 quindi facendo subito tre case perché ovviamente se adesso tiro un 6-4 posso colpire la pedina avversaria nell'outfield ma mi rimangono i due blotti in casa quindi non è proprio il massimo anche qui 6-2 non è la mia scelta migliore io ho giocato senza lasciare alcun blotti quindi 8-6-8-2 ma approfittando anche del fatto che l'avversario ha due blotti nella sua casa sarebbe stato preferibile invece slottare casa 4 qui 4-1 potrei chiudere casa 3 ma poi avrei da giocare l'1 per cui invece è preferibile 6-1 ovviamente ancora non posso scappare devo aspettare un momento più favorevole sono in vantaggio in corsa di 28 pip che è tantissimo sono riuscito adesso a creare una casa finalmente buona anche se ci sono due pedine sprecate due spare inutili sulle case 2-1 lui tira un doppio 6 quindi adesso la differenza è soltanto di 12 e continuo a non poter venire avanti con i miei runner devo mantenere l'ancora qui sta pensando di cubare ma è decisamente prematuro perché è indietro in corsa di 20 e mi basta un doppio per passare in netto vantaggio vedete comunque che le sue possibilità di vittoria sono superiori al 50% ma non di tantissimo 3-1 non è un gran tiro avrei sicuramente preferito colpire e avevo ben 6 tiri che colpivano doppio 4 finalmente arriva un doppio 4 anche se gli altri 2-4 sono stati bloccati dal suo midpoint qui si trova davanti a una scelta difficile se mantenere la pedina che adesso sta sul 12 per aumentare il contatto oppure se portarla in salvo come alla fine ha fatto con 12-7 ma questo è un blunder da 254 essendo molto in ritardo in corsa e avendo io le pedine solo sulla casa 3-2-1 quasi sicuramente dovrò correre quindi dovrò abbandonare l'ancora e lasciare un tiro per cui valeva la pena di rischiare un po' di più e rimanere sul 12 ecco qui c'è stato un mio cubo un po' prematuro un po' troppo coraggioso perché è vero che sono nettamente in vantaggio ma lui ha una casa forte e io rischio di essere colpito mi è andata bene a questo punto sicuramente sono contentissimo di avere cubato perché ho un vantaggio di 24 pip in corsa anche se ho parecchio wastage però il vantaggio è tale da consentirmi una vittoria abbastanza agevole quindi questi sono tiri poco significativi qui l'unica cosa interessante è che devo sperare di tirare dei dadi bassi in modo da avere una decisione che conta per il PR essendo il torneo win and skill il PR è importante per giudicarsi il punto in palio appunto per il PR 3-2 qui è opportuno portare giù due pedine dal midpoint che è sovraccarico un pilone da 6 però sono sfortunato vengo colpito qui addirittura è vicino al punto del double anche perché il punteggio è di 4-0 per me 2-1 non è un gran tiro e qui commetto un errore chissà perché non mi piaceva rimanere sulla casa 20 perché c'era il rischio che mi facesse casa in testa e quindi anziché cercare di migliorare la mia struttura giocando 11-10-6-4 ho giocato questa mossa tutto sommato non eccezionale infatti avete visto che si tratta di un blunder qui sul cubo 20 pip di vantaggio per il mio avversario ho deciso comunque di accettare nonostante il vantaggio di punteggio nel match perché comunque la mia pedina sul 24 mi offre parecchie chance di colpire la sua struttura è molto rigida ecco qui è il solito problema che ho portato avanti la pedina ma era invece ci ho giocato un po' in sicurezza ma ho diminuito le possibilità di vittoria e infatti XG mi ha dato errore ed è il classico esempio che abbiamo affrontato ben due volte negli episodi del che cosa avresti fatto e perché però ci ricasco sempre c'è poco da fare quindi qua sono indietro sono enormemente indietro in corsa e qui le speranze sono ridottissime vedete che l'avversario ha intorno al 94% di possibilità di vittoria però diciamo che siamo 4 a 0 quindi perdere due punti non è la fine del mondo qui sono tutte mosse abbastanza ovvie che non richiedono particolare commento vedete che ho ancora una ridottissima possibilità di vittoria 0,1-0,2% che ormai si è azzerata e quindi insomma andiamo sul 4 a 2 per me ho consumato sinora 3 minuti che non è tantissimo per cui diciamo situazione tempo sotto controllo io controllo come indicazione guardo quanti sono i punti che mancano al leader e controllo di avere almeno un numero di minuti pari a quei punti altrimenti cerco un po' di accelerare sempre che le posizioni lo permettano qui 5-2 sembra abbastanza evidente coprire casa 1 e colpire infatti l'avversario gioca questa mossa io colpisco e adesso ho un'ottima posizione anche perché le sue due pedine sulla casa 1 non sono particolarmente in gioco ecco questa è una scelta non facile se fare casa 5 o colpire il mio blot sulla mia casa 5 per me era abbastanza ovvia la mossa preferibile cioè colpire il mio blot ma il mio avversario ci ha pensato parecchio ha provato è andato un po' avanti e indietro con le pedine prima di arrivare a una decisione vedete che XG considera l'alternativa un errore da 186 ecco giusto come informazione le analisi di XG che sto mostrando sono a livello BIMAB normalmente mostro quelle a livello XG++ e in realtà avevo fatto l'analisi XG++ ma poi ho caricato il file dell'analisi BIMAB un errore poi dopo che ho fatto tutto il lavoro non mi è sembrato il caso di ripartire da capo ma le differenze non sono elevatissime qui entrambi i giocatori hanno un po' di pedine arretrate il mio avversario più di me qui anch'io avrei fatto la mossa sua ma XG lo considera un errore invece avrebbe switchato dalla casa 6 a casa 5 probabilmente perché anzi ovviamente perché ci sono molti blotti in giro e quindi si sarebbe dato più possibilità di colpire i miei blotti ecco 6 a 4 qui ho pensato soltanto alla possibilità di giocare 15 a 9 13 a 9 oppure quella che ho giocato cioè fare casa 4 ma non mi sono minimamente accorto della possibilità invece di coprire casa 10 giocando 20 a 10 mossa che avrei sicuramente fatto ma mi è proprio sfuggita tanto il mio avversario è riuscito a fare anche casa 5 dopo aver fatto il golden ma ha una struttura con troppe case diciamo che la mia struttura è più flessibile oltre ad avere un bel vantaggio in corsa qui tira un doppio 5 quindi il vantaggio in corsa sparisce e incomincio anche a rischiare perché riesce a costruire una casa da 4 con una mia pedina sul bar qui ci ha pensato un po' ma è abbastanza chiaro che deve venire avanti deve venire avanti dal midpoint e colpire comunque la pedina sulla casa 3 questa mossa ad esempio sarebbe un blunder da quasi 200 anche perché comunque rimane con altre due pedine arretratte quindi non ha molto senso qui sono fortunato riesco a rientrare e a colpire ecco qua questo è il mio errore più grosso del match 5 e 4 mi trovo con due pedine arretrate quindi l'ancora sulla casa 23 e ho la possibilità di scappare con 23 14 ma non mi piaceva perché ci sono molti tiri indiretti e poi i 6 tutti i 6 che mi colpiscono quindi ho scartato questa mossa non ho valutato a sufficienza la possibilità di giocare 23 18 12 8 che mi espone sì a tutti gli 1 e i 6 però è molto più costruttiva rispetto a quella che ho giocato che è più sicura ma mi lascia con quelle due pedine arretrate che sono molto deboli infatti l'errore avete visto è un errore notevolissimo qua 5 e 2 stavo per giocare quasi automaticamente 13 6 poi mi sono reso conto che sulla casa 4 avevo solo due pedine e quindi era preferibile giocare 13 8 6 4 qui il mio avversario sta sicuramente meglio ma non ha questo vantaggio eccezionale la mia struttura è sicuramente più rigida però vedete che il double è prematuro è quasi un blunder infatti ho accettato molto rapidamente anche perché la corsa è praticamente pari non ho alcuna pedina sprecata posso giocare posso giocare ho l'ancora il mio avversario non ha grosse minacce e quindi ho accettato 4-1 qui devo scoprirmi pertanto colpisco sulla casa 3 sono fortunato e non vengo colpito a questo punto la posizione è diventata perfettamente giocabile 6-5 devo ma lo faccio anche abbastanza volentieri coprire e colpire 6-5 lui riesce ad ancorarsi ma io colpisco rientra e ricolpisce ottimo rientro mio per cui faccio un ancora sulla casa 16 a questo punto passo nettamente in vantaggio vedete che ho un vantaggio in corsa di 15 lui ha un blot a tiro diretto 5-4 copro casa 2 e vado avanti dall'otto a questo punto la mia casa è abbastanza robusta e minacciosa qui dopo il suo tiro ho 18 pip di vantaggio ho ancora la possibilità di colpire la pedina con un tiro diretto e qui vedete ho il 70% di possibilità di vittoria un 10% di possibilità di gammon per cui money game sarebbe sicuramente un double ma qui si tratta di un redouble sul punteggio di 4 a 2 per cui vedete che xg mi dà un errore sia pure non gravissimo doppio 1 è un tiro un po' sfortunato anche perché comunque la sua casa interna è forte per cui se riesce a colpirmi se riuscisse a colpirmi mi troverei molto probabilmente di fronte a un cubo a 8 da un momento all'altro qui non ho capito perché abbia abbandonato l'ancora è mossa assolutamente un po' troppo rischiosa vedete che i gammon i gammon passano dal 4% al 18% qui chiudo la quinta casa quindi siamo forti in casa allo stesso modo ma io ho un vantaggio in corsa di 19 qui bisogna vedere chi si scopre o riesce a venire avanti ecco doppio 5 mi risolve tutti i problemi un tiro fortunatissimo e adesso con il vantaggio in corsa che ho diciamo che i 4 punti sono praticamente sicuri vedete che ho ancora 24 pip di vantaggio ho già portato fuori 4 pedine per cui la partita il game è assolutamente senza storia ecco approfittiamo per una curiosità vedete che sembra che io abbia problemi a un occhio che è di un colore uguale allo sfondo in realtà vedete sto usando il cosiddetto green screen che permette di eliminare lo sfondo sostituendolo con uno sfondo fittizio vedete un blue ma c'è qualche piccolo problemino perché questa metodologia richiede un'illuminazione molto buona che non sempre riesco ad avere ecco qui 3-2 è interessante perché sapevo che normalmente si gioca 24-21 13-11 però anche considerando il punteggio ho preferito una mossa più sicura un piccolo errore diciamo qui doppio 4 sono in vantaggio in corsa mi conviene venire avanti però lui fa un doppio 5 dopodiché il mio vantaggio sparisce totalmente 2-1 non va per niente per niente bene a questo punto incomincia ad avere delle possibilità di di cubo vedete che ci sarebbe stato un cubo però al momento non ha cubato a questo punto invece si trova avanti in corsa di 16 e qui ho dovuto decidere se accettare o passare in realtà lui ha due case da liberare ma la la mia ancora è un po' avanzata è sul 16 non sul suo bar point per cui le possibilità di di liberare in sicurezza quelle due case sono abbastanza elevate e pertanto ho deciso di passare anche se con una certa paura ma la decisione è stata correttissima quindi siamo arrivati sul punteggio di 8 a 3 per me doppio 5 tiro eccezionale quindi quattro case due pedine su e sul bar 6 4 danza e a questo punto il cubo è fortissimo anche se il punteggio è nettamente sbilanciato per lui è un pass nettissimo vedete che accettare sarebbe stato un blunder da 322 infatti speravo che accettasse e invece niente comunque ottimo essere arrivato 4 away sono a 9 mancano 4 punti per la vittoria ho colpito la sua pedina nell'outfield ma ottima risposta sua con il doppio 3 e qui avrebbe dovuto giocare più aggressivamente occupando casa 5 d'altra parte deve recuperare quindi ci stava a lasciare qualche blotti in giro ma ottenere una struttura d'attacco più forte qui non è chiaro perché non ha portato la pedina dal 22 al 18 quanto è un po' in vantaggio in corsa pertanto non c'era motivo per non venire avanti 3 1 faccio casa 5 ho esitato un po' perché mi sarebbe piaciuto ancorarmi ma casa 5 era troppo importante ecco adesso gli piacerebbe andare sul 18 ma dovrebbe lasciare una pedina a tiro doppio per cui non lo può fare quindi la mossa più naturale è 13 8 e invece lui pur avendo una casa più debole decide di colpire qui ho avuto qualche indecisione ma sicuramente è opportuno switchare quindi mettere due sue pedine sul bar qui invece avrei dovuto giocare una mossa più tranquilla quindi portare avanti la pedina dal 22 all'11 perché non ho una struttura da blitz e invece ho deciso di blizzare mi sono fatto ingolosire dalla possibilità di mettere sul bar due sue pedine qui correttamente switch ancora ecco lo switch è un tipo di mossa che sino a poco tempo fa non prendevo mai in considerazione adesso sto un attimino rivalutando diciamo così a forza di di essere strigliato da xg per i miei blunder la sto prendendo in considerazione sul rientro con il doppio 2 è eccezionale fortissimo 3-1 mi piacerebbe andare sul 22 ma non ho degli 1 giocabili per cui devo invece slottare sulla casa 10 non vengo colpito per mia fortuna diciamo che la posizione è abbastanza equilibrata 3-1 vabbè 10-6 sembra abbastanza ovvia 4-3 è un tiro che non costruisce per lui per cui questa mossa lascia troppe possibilità avrebbe dovuto invece scappare con uno dei due runner cioè venire avanti dal 23 al 16 6-4 ottimo tiro avevo la scelta tra colpire la pedina sul 14 dice quella sul 12 ma è corretto colpire sul 14 lui danza qui ho pensato alla possibilità di cubare anche perché in caso di Gammon vincerei il match ma su questo punteggio ho preferito essere un po' più prudente d'altra parte lui ha un'ancora quindi Gammon non sono tantissimi e soprattutto il rischio di un ricubo a 4 sarebbe grave sarebbe altissimo vedete che anche qui il double sarebbe un errore da una trentina di millesimi qui non è una scelta facile però giocare la mossa sicura 12-3 non mi piaceva per niente per cui invece sono venuto avanti dal 22 al 16 e ho portato la pedina sul 9 dal 12 al 9 quindi aumentando un po' forse le possibilità di essere colpito ma creando delle prospettive di fare casa 5 oppure casa 9 doppio 2 per lui mi colpisce ma sta comunque nettamente peggio perché ha 4 pedine arretrate quindi la mia posizione è molto forte diciamo diciamo che se non fosse per il punteggio sarebbe sicuramente un double vedete anche qui è un no double solo di 32 millesimi 70% di possibilità di vittoria e 26% di gammon ci ho pensato infatti in questo game ho pensato parecchio alla possibilità di cubare ma giustamente perché come vedete c'eravamo molto molto vicini ottimo rientro da parte sua doppio 5 e qui sicuramente ho tirato un sospiro di sollievo per non aver cubato scelta non facile doppio 5 come tutti i doppi qui ha parecchie possibilità ma anche se appunto mi colpisce sono ancora in vantaggio qui ho provato questa perché mi sembrava che avrei colpito ma sono tornato prontamente indietro e sono andato invece sull'ancora sulla casa 16 4-2 qui potevo giocare la mossa safe 8-6-8-4 ma mi è sembrata decisamente triste e quindi ho preferito slotare la casa 10 anche perché se mi colpisce si trova con un blot sulla sua casa 5 e poi deve abbandonare il mio midpoint il mio barpoint insomma difficilmente sarebbe una buona scelta però tira un 3-5 che è ottimo perché colpisce e copre casa 5 e a questo punto ha un double che è forte è in vantaggio di 11 in corsa ha una casa da 4 una mia pedina sul bar e qui ero tentato di passare avevo diciamo molta paura ma ho considerato che lui ha parecchie pedine ancora da portare avanti io ho una struttura molto solida una casa forte due pedine su cui rientrare ho deciso di accettare e ho scelto correttamente passare sarebbe stato un bel blunder da 140 all'incirca mi colpisce per fortuna rientro qui mi stava sfuggendo la possibilità di colpire la sua pedina stavo per giocare 6-4 ma per fortuna me ne sono accorto in tempo mi ha ricolpito ma diciamo che mi è andata molto bene perché sono riuscito ad ancorarmi a questo punto ho una posizione ragionevolmente sicura e il cubo in mano che è una certa garanzia ecco questa è una scelta molto molto impegnativa è chiaro è chiaro che viene subito in mente di colpire due volte il cosiddetto double tiger di mici però quindi 13-7 8-5 rimango con 4 blot sulla sulla tavola è considerato il punteggio i rischi di gammon non sono trascurabili vedete quasi il 22% di gammon ma d'altra parte è la scelta nettamente migliore le altre sono peggiori in ogni caso devo colpire e lasciare dei blot per cui bisogna prendere il coraggio a due mani e colpire entrambe le perine qui ci ho pensato parecchio è una scelta che non mi viene naturale ma alla fine ho trovato il coraggio vedete che ho provato prima questa ma che comunque lascia parecchi parecchi tiri in ogni caso il il fatto di avere l'ancora e avere anche il blot avversaria sulla casa 1 mi ha fatto decidere per questa scelta qui possibilità di cubare ma non ha molto senso anche perché comunque ho anche ottime possibilità di gammon ma la partita si può ribaltare da un momento all'altro quindi non ci ho pensato più di tanto e ho tirato dritto diciamo così qui colpire sulla casa 2 avevo un po' di paura ma è assolutamente la scelta corretta è andata male però non tanto perché ho ricolpito quindi a questo punto lui ha tre pedine indietro di quei due sul bar e la posizione è nettamente buona per me quindi a questo punto il problema è decidere se portare avanti le pedine o invece cercare di chiudere un'altra casa io ho colpito ancora qui a questo punto vengo avanti colpire l'altra pedina era decisamente troppo spero che non mi tiri un 2 ovviamente ecco qui sarebbe stato corretto portare avanti le due pedine dal 16 invece mi sono lasciato ingolosire dalla possibilità di massimizzare le coperture sul 2 e ho lasciato anche un blot sulla mia casa 16 comunque mi è andata bene ho coperto il 2 lui è riuscito ad ancorarsi a questo punto devo approfittare del fatto che lui è ancora sul bar per venire avanti però rientra e mi colpisce qui mi è venuto un brivido perché a questo punto rischiavo fortemente l'effetto aspirapolvere in cui poteva spazzolarmi i tre blot in giro per la tavola ma per fortuna il doppio 3 mi ha aiutato doppio 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 suo ottimo però adesso ha quattro pedine sull'uno per cui sulla casa uno quindi se non sono particolarmente sfortunato diciamo diciamo che sono abbastanza tranquillo vedete possibilità di vittoria quasi dell'ottanta per cento colpisce ancora doppio uno rientro subito per fortuna qui devo portare avanti le pedine chissà perché qui ero convinto di arrivare alla casa 6 invece ho visto che non ci arrivavo e quindi ho fatto casa 9 correttamente 3 1 questa mossa sbagliata avrebbe dovuto cercare di coprire casa 4 qui non ho avuto fretta di uscire perché la pedina sulla sua casa 4 è molto al sicuro sicuramente molto più che non sul suo bar point vedete vedete che ho quasi un 90% di possibilità di vittoria questa sua mossa mi mi aiuta non ha alcun senso avrebbe dovuto lasciare il blotto sulla casa 1 ma non scoprire la casa 3 perché è chiaro che poi riesco ad avere molte più possibilità di rientrare nel caso venga colpito infatti vedete che qua sarebbe stato corretto uscire sul 18 proprio per il fatto che ho due case di rientro ottime però l'errore è molto ridotto anche qui sta provando tutto meno la mossa più normale che è 13 10 11 10 qua ovviamente colpisco a questo punto cerco di massimizzare le possibilità di colpire anche l'altra pedina qui sto andando decisamente per il gammon che mi porterebbe a vincere il match purtroppo rientra un po' troppo presto per i miei gusti anche qui non riduce le possibilità di essere colpito vedete che adesso le mie possibilità di gammon sono superiori al 70 per cento quindi 90 per cento di possibilità di vittoria e 73 per cento di gammon oltretutto la sua casa interna si sta sciogliendo al sole doppio non è un gran tiro doppio sei sicuramente migliore doppio quattro lo aiuta a ridurre le possibilità di gammon però siamo sempre oltre il 75 per cento qua ho fatto un blunder grosso già non avevo tantissimo tempo ma ci avrei dovuto pensare un po' di più perché non mi è sembrato vero di liberare una casa ma in realtà con solo due pedine sul due sto rischiando troppo e quindi questo è proprio un blunder lui nel frattempo è riuscito anche a chiudere la quinta casa adesso il rischio di scoprirmi è elevato vedete 4 1 non non colpisce qui è curioso avrebbe preferito colpire sulla casa 1 sinceramente non c'ho neanche pensato i due qui mi colpisce ormai era quasi vinta la partita perché il gammon se non avesse colpito era ovvio qui è ancora to good perché vabbè comunque sapevo che con 14 pedine colpite se anche avesse chiuso la sua casa interna avrei avuto più del 90% di possibilità di vittoria e quindi un chiaro redouble pass per cui ho aspettato mentre adesso che ha chiuso la tavola ovviamente non ho più alcuna possibilità di gammon anzi in realtà qui mi dice che ho ancora l'1% di possibilità di gammon direi abbastanza improbabile però il 7% di possibilità di perdere per cui ho ricubato anzi probabilmente ci ho pensato anche un po' troppo visto che non avevo tantissimo tempo ho ricubato e lui ha passato istantaneamente correttamente quindi 11-3 2-way 10-way doppio 6 ottimo per lui la scelta è abbastanza ovvia ottimo 2 che mi permette di ancorarmi sulla casa 22 questo punto cubo ovvio e qua ho pensato perché mi rendevo conto che la mia ancora mi dava ottime possibilità di non subire gammon e quindi ho accettato purtroppo mi ha colpito ma doppio 1 tiro molto fortunato per me ecco questa è una mossa che non penso mai 2-1 non ho pensato alla possibilità di giocare 7-6 7-5 che è assolutamente la scelta migliore perché comunque quel prime da 3 fa ridere mentre invece 7-6 7-5 crea delle minacce e non espone un altro blot quindi sarebbe stata assolutamente la scelta corretta però non ci ho minimamente pensato non è che l'ho scartata non l'ho proprio vista non mi è passata per la testa qui sono riuscito a colpire ancora adesso ho creato un prime diciamo interessante qui un blunder grosso non ho capito perché mi piaceva comunque andare sulla casa 5 anziché sulla casa 7 ma non ho pensato minimamente che la mia pedina sarebbe stata molto più al sicuro sul 16 piuttosto che sul 18 quindi anche con poco tempo a disposizione ho commesso un errore grosso a questo punto lui ha il 25% di possibilità di Gaemon qui devo sperare di rientrare rapidamente oppure che lui non tiri un 2 ecco qui 5 3 devo smontare la mia casa colpisco invece sarebbe stato meglio la mossa più safe lui ricolpisce qui ho sudato freddo perché ovviamente le possibilità di Gaemon sono estremamente concrete però per fortuna 11.3 anche col Gaemon andiamo sull'11.7 e ho un discreto margine di sicurezza continuo a danzare lui colpisce la seconda pedina qui commette un errore avrebbe dovuto cercare di colpire anche la terza anche perché avrebbe aumentato sicuramente le possibilità di backgammon che sarebbe estremamente doloroso si andrebbe sul two away four away qui è ovvio che Gaemon non lo rischio Gaemon posso evitarlo ma non è facile lui ha più del 75% di possibilità di Gaemon ecco questa è una scelta incomprensibile per me qui mi chiedevo che cosa stesse pensando ha scelto di uscire dalla casa 4 che si aumenta del 4% del 5% le possibilità di Gaemon ma aumenta tantissimo anche le possibilità di perdere doppio 5% ovviamente qui mi è venuto il brivido perché è possibile subire backgammon per fortuna riesco ad evitarlo e andiamo sull'11 7% intanto un minuto e 14 secondi non è ancora una carenza di tempo gravissima però bisogna sono costretto a giocare velocemente 5-3 qui ho dovuto decidere rapidamente se ancorarmi o colpire però mi è sembrato corretto colpire e ho fatto la scelta corretta qui riesco a portare in salvo il blot qua in questa situazione gli conviene colpire ma non c'è una grossa differenza tra le due mosse qui non mi sembra vero di portare in salvo anche l'ultimo runner adesso mi trovo in vantaggio in corsa anche se con una struttura abbastanza rigida 2-1 qua la mossa safe era 6-3 ma era troppo triste adesso lui si ancora sul mio bar point il mio vantaggio in corsa è molto ridotto però comunque ho delle ragionevoli possibilità di vittoria doppio 4 è un tiro eccezionale che mi porta in vantaggio in corsa mi permette di liberare il midpoint a questo punto le mie possibilità di vittoria sono intorno al 75% e avrei avrei avuto anche l'opportunità di cubare mi è sembrato presto in realtà era un cubo molto molto al filo ma che non scartavo sicuramente per il punteggio so benissimo che su questo punteggio ha perfettamente senso cubare semplicemente ho valutato che fosse troppo presto anche adesso ho 4 pip di vantaggio soltanto per cui ho detto è presto adesso 7 pip 7 pip qui avrei dovuto cubare invece ho perso l'occasione qui adesso pip di vantaggio sono solo 3 troppo troppo pochi ci ho pensato un po perché comunque avevo le pedine molto più vicine alla casa interna 6-5 un buon un buon tiro ecco qua ho pensato che fosse un cubo in realtà ho più del 70% di possibilità di vittoria ma era un attimino anticipato ovviamente lui ricuba a 4 io ho contato che il suo take point era del 22% quindi la situazione era simile a quella del money game però appunto non avevo tutto questo vantaggio avrei dovuto aspettare diciamo però che mi è andata bene e ho vinto il match vedete il PR molto buono anzi in realtà qui 5,3 ma 5,3 per XG siamo a